Smaltita l'euforia per la vittoria sul Crotone, a Palermo ci si interroga sul momento della squadra e sul valore dello stesso trionfo sui calabresi. I tre punti racimolati domenica sono preziosi, soprattutto in termini d'entusiasmo perché alimentano la pazza idea di una rimonta salvezza. L'1-0 firmato da Nestorowski è importante anche perché rappresenta il primo acuto casalingo stagionale, ma va contestualizzato nel miglior modo possibile per evitare di travisarne il peso specifico. Contro il Crotone il Palermo ha giocato peggio che col Napoli, ma raccogliendo di più. I rosa-nero hanno messo in campo una prestazione sulla falsariga di quelle fornite contro Pescara ed Empoli, ma senza qualche errore marchiano a comprometterla come avvenuto nei due casi precedenti. Il risultato deve servire ad accendere la fiducia della squadra in se stessa, trasformando le classiche frasi fatte sul credere in una salvezza oggettivamente complicata in un vero e autentico mantra in cui la squadra possa rispecchiarsi completamente. Il girone di ritorno da questo punto di vista potrebbe dare una mano perché saranno tante le squadre che, lontane da obiettivi europei e al sicuro da rischi retrocessione, potrebbero pararsi al cospetto dei rosa-nero con motivazioni certamente inferiori. La differenza di queste ultime quindi rischia di essere l'ago della bilancia e molti dei match che attendono gli uomini di Diego Lopez. Il tecnico ruguaggio sembra avere trovato, se non la quadratura del cerchio, quantomeno una linea tattica per provare a sfruttare fino in fondo le pure esigue risorse offensive della rosa palermitana, intanto non isolando il potenziale di Nestorowski, poi rispolverando un embalo rimasto ai margini in tutte le precedenti gestioni, è un tra i coschi che, al netto della sua proverbiale discontinuità, potrebbe estrarre dal cilindro alcuni colpi utili per risolvere certe gare. Il tutto condito da una fase difensiva più attenta che dovrà necessariamente prendere la prestazione del San Paolo come punto di riferimento per non vanificare il poco creato dal reparto avanzato. Se tutto questo avverrà, Lopez avrà già compiuto una mezza impresa, quella di ridare identità e determinazione al collettivo rosa-nero. Se riuscirà ad andare persino oltre, visto le carenze tecniche e societarie del club, potremmo parlare decisamente di miracolo sportivo.